A un certo punto in Senato, vengo eletto senatore, c'è Bossi, primi mesi, e Bossi mi dà atto, dandovi anche una cazzottata, perché Bossi dà atto ma continua a dare le cazzottate anche non stando più benissimo come prima, sei stato uno dei pochi che ha fatto qualcosa per la mia gente, gli imprenditori del nord, perché Industria 4.0, IRAP costo del lavoro, Jobs Act, noi queste cose le abbiamo fatte, poi io penso che ci sia un problema di andare su quella parte di popolazione che ha meno e quindi gli 80 euro.